Con questo tutorial parliamo del teorema del confronto. Lo enunciamo, ne diamo una dimostrazione ed un'interpretazione grafica. Il teorema recita in questa maniera. Siano h di x, f di x e g di x, tre funzioni definite in uno stesso intorno h di x con 0, escluso al più il punto x con 0. Se in ogni punto h diverso da x con 0 risulta verificata questa disuguaglianza, ossia che h di x è minore o uguale a f di x che è minore o uguale a g di x e il limite delle due funzioni h di x e g di x per x che tende a x con 0 è uno stesso numero L, allora anche il limite di f di x per x che tende a x con 0 è uguale a L. In simboli possiamo scrivere che se il limite di x che tende a x con 0 di h di x è uguale al limite di x che tende a x con 0 di g di x e si ottiene un numero reale L, allora la funzione compresa f di x tenderà anch'essa per x che tende a x con 0 a L. Prima di effettuare la dimostrazione di questo teorema ne diamo un'interpretazione grafica. Supponiamo di avere tre funzioni g di x, f di x ed h di x. Possiamo notare che nell'intorno di 0 h di x è sempre minore o uguale ad f di x ed f di x risulterà sempre essere minore o uguale a g di x. Ora, siccome che g di x ed h di x quando x tende a 0 otteniamo 1 sia qui che qui, allora di conseguenza anche per f di x quando x tende a 0 si otterrà come il limite 1. Vediamo quest'altro esempio. Ho tre funzioni, h di x che è questa in blu, f di x che è quella in rosso e poi g di x che è quella in nero. Fissiamo l'attenzione sul punto x uguale a 0 e ne andiamo a considerare un intorno. Possiamo notare che nell'intorno di x uguale a 0 h di x risulta sempre essere minore o uguale ad f di x ed f di x risulta essere sempre minore o uguale a g di x. Ora, siccome che il limite di x che tende a 0 di g di x ed h di x è 0, di conseguenza questa funzione, che qui localmente è compresa tra queste due, anch'essa tenderà a 0 quando x tende a 0. Iniziamo ora la dimostrazione del teorema del confronto. Fissiamo un epsilon a nostro piacere e poi andiamo ad applicare la definizione di limite alla funzione h di x e alla funzione g di x. Siccome che sappiamo che il limite di x che tende a x con 0 di h di x è uguale a l, allora possiamo scrivere che il valore assoluto di hx meno l deve essere minore di epsilon per ogni x che appartiene a un intorno i1 di x con 0. La stessa cosa vale per g di x. Visto che il limite di x che tende a x con 0 di g di x è uguale ad l, allora possiamo scrivere che g di x meno l in valore assoluto è minore di epsilon per ogni x che appartiene all'intorno i2 di x con 0. Osservo che questa disuguaglianza e questa disuguaglianza varrà allora per ogni intorno i che è dato dall'intersezione di 1 con i2 escluso al più x con 0. Questo perché potremmo trovarci di fronte ad una funzione che non è definita in x con 0. Queste due disuguaglianze possono essere riscritte in questa maniera per ogni x che appartiene all'intorno i che si ottiene come intersezione di questi due intorni. Allora h di x sarà compresa tra l meno epsilon ed l più epsilon e g di x sarà compresa tra l meno epsilon ed l più epsilon. Visto che per ipotesi sappiamo che h di x è minore o uguale ad f di x che è minore o uguale a g di x, allora considerando questa disuguaglianza e questa disuguaglianza a partire da questa relazione posso scrivere questa nuova relazione, ossia che l meno epsilon è minore di h di x che è minore o uguale ad f di x che è minore o uguale a g di x che è minore di l più epsilon e questo per ogni x che appartiene all'intorno i di x con 0. Fissando ora l'attenzione su questa quantità, questa quantità e questa quantità posso andare a riscrivere che f di x è compreso tra l meno epsilon ed l più epsilon per ogni x che appartiene all'intorno i, sempre con x con 0 al più escluso. Tale relazione può essere riscritta in questa maniera, valore assoluto di f di x meno l è minore di epsilon, ma questa relazione è equivalente a scrivere che il limite di x che tende a x con 0 di f di x è uguale ad l e con questo abbiamo dimostrato il teorema del confronto. Vediamo ora un'applicazione del teorema del confronto. Supponiamo di voler calcolare questo limite, cioè il limite di x che tende a 0 di x per seno di 1 su x. Andando a sostituire 0 qui e qui, otteniamo 0 per infinito, ossia una forma indeterminata. Rappresentando graficamente la funzione y uguale x seno 1 su x, otteniamo questo grafico. Possiamo notare che la funzione oscilla in maniera infinita intorno al valore 0. Un modo per risolvere questo limite è proprio applicare il teorema del confronto. È possibile dimostrare che la funzione x per seno di 1 su x è compresa tra meno modulo di x e modulo di x. Questo perché posso osservare che il seno al massimo è 1, allora vuol dire che questa quantità può essere maggiorata da modulo di x. E come valore minimo il seno vale meno 1, allora questa funzione può essere minorata con meno modulo di x. Dal punto di vista grafico ci troveremo di fronte a questa situazione. In rosso abbiamo la funzione f di x uguale a seno di 1 su x, che è questa funzione oscillante. Poi come g di x avremo modulo di x, che è questa, e poi come h di x avremo meno modulo di x, che è questa funzione in blu. Possiamo notare che modulo di x e meno modulo di x tendono a 0 quando x tende a 0. Siccome che x per seno di 1 su x si trova sempre tra queste due funzioni, per il teorema del confronto anch'essa tenderà a 0. E questo vuol dire che il limite di questa funzione è uguale a 0. Osservo che questo teorema viene chiamato anche teorema dei carabinieri. È una metafora che discende dal fatto che queste due funzioni, g di x ed f di x, si comportano come due carabinieri che accompagnano il detenuto in prigione. E con questo termino il tutorial sul teorema del confronto.